Dal primo gennaio 2024 ad oggi sono 67 le nuove donne che si sono rivolte al centro antiviolenza dell'Aquila a fornire i dati a il legale del centro Simona Giannangeli che è anche consigliere comunale. Un dato che non si può definire in crescita spiegato perché la violenza è costante e sempre presente ma sono sempre di più e fortunatamente anche grazie al codice rosso le donne che denunciano. Uno spaccato che preoccupa perché i dati si riferiscono solo al comune dell'Aquila. Quest'anno dal primo gennaio 2024 ad oggi il centro antiviolenza ha accolto 67 donne nuove. Questo significa che dal primo gennaio 67 donne si sono rivolte per la prima volta al centro antiviolenza quindi si sommano a quelle che proseguono i percorsi di accoglienza e di fuoriuscita dalla violenza maschile avviati in passato. Parliamo di donne della provincia, dato provinciale? Questo è un dato dell'Aquila, è un dato dell'Aquila con 3-4 numeri che vengono da un fuoricomune ma un fuoricomune vicinissimo. I dati sono relativi a donne quindi dell'Aquila di questo comune italiane perché soltanto una minima parte sono donne straniere quindi significa che il dato è strutturale e riguarda il paese e ci sono invece due donne con bambine e bambini accolte in casa rifugio. Casa rifugio che è diventata operativa dal mese di luglio e quindi in questo breve tempo da luglio ad oggi sono già due le donne che hanno trovato accoglienza lì. Lunedì in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Giannangeli e Stefania Pezzopagna hanno promosso un consiglio straordinario aperto dove verranno ascoltate molte persone, l'obiettivo spingere anche il comune come istituzione a fare sempre di più e a capire quali politiche e strumenti mettere in campo.